Possiamo essere Una grande soddisfazione, una grande vittoria un popolo del motociclismo che si ritrova qui a Pesaro di fianco al casco di Valentino ancora una volta per vincere il mondiale Tanta gente, tanta passione, siamo la terra dei piloti e dei motori Proporrò il consiglio comunale, la cittadinanza onoraria per Pecco e sono sicuro che il consiglio risponderà affermativamente Porto Pecco e ti aspettiamo a Pesaro